ok direi che si sta collegando spiderman spiderman ah vi vengo a prendere con la mia tua? amica di vecchia data cos'è? anzi chi è? si chiama ehm tv una pompilova aspetta che ne calico una anch'io sulla mia dumbugger sta con cappottina gialla non sono sicuro che salga però sulla mia dumbuggera sta con cappottina gialla ma stai scherzando guarda che bello ti sale bud spencer su quella roba giusto è appunto io sono bud spencer e ti sale bud spencer ah no ma che bello un twist io sono bud spencer e mi sale bud spencer si si è un modo per moltiplicare i bud spencer c'è uno che ha lasciato una macchina rossa davanti a casa mia vabbè una macchina rossa 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 pensare che avevo capito rossa a dir la verità dai mi sono fatti da mezzo alla strada e mi dice andiamo in un posto più privato c'è più privato di questo e mezzo al centro e ci sono io di fianco e quello è il problema rossa aspetta dove dove ci si trovano le 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 hai davanti al grossi più o meno ovunque comunque giusto avevo in questa fácil la potete capire no no non credo è esatto Ailsi per un attimo non andava la macchina oh questo è mai stato privato forse I don't wanna take a new buggy Cacciatore di testa Costa, vieni a fare il paparazzo Arrivo, arrivo State lì, eh Eeeh, si sente tutto You're my daddy-up, right? You're my daddy-up Cacciatore di testa Non fa un volo Faccio pure il selfie Mi raccomando No, dov'è? Oh, give me un big... Oh, give me un big... Oh, vabbè Oh, vabbè Oh, vabbè Ho sblocato una medaglia Oh, vabbè Oh, vabbè Ora ho i nerfs Oh, vabbè Ora ho i nerfs Oh, vabbè Oh, vabbè E la madonna quanto cazzo c'era lunga Oh, vabbè Oh, vabbè Ok, direi che ho fatto abbastanza foto E' ora di ammazzarla No, no, lasciala fare, lascia fare Aspetta, aspetta Ma che che fa abbastanza cosa? No, l'hai mandato fuori Aspettate che venga a prendere quella tua bagna No, 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 scusate, scusate Meno male che l'ho registrato Aspetta Aspetta E' scesa Le ho sparato un colpo in testa Non è morta subito Si è girata col buco in testa ed è caduta Aveva un dollaro in tasca Eh, sono spilorcio Cosa voleva fare con un dollaro? Ah, ma aspetta Io ho la mia macchina E sono rimasto qua Dove siete? Ne aveva 150 quello che ho chiedato io Però era 151 Prima che la caricassi sua aveva un dollaro Ah, vabbè Eh, signor Frassica, lei dov'è? Eh, sto arrivando Ah, ok Vengo a fare navi con la mia nuova Dumbaggy Ma è salita la signora di Buona Pompilovala? E' salita al paradiso No, no, dicevo Non credo, non credo No, no, no Ok, ok Sono qui Ok Aspetta la musica Ah, ma non hai preso la Dumbaggy? Cos'è sta roba? Dai, Giuse Ah, ok Adesso ho capito Eh, vabbè Quella comunque non è la Dumbaggy Eh, appunto, quella non è il Dumbag, Giuse No, ma... E' l'unica che assomigliava No, ma c'è Ma guarda che c'è Ma non è vero Si Ci sono due, Giuse Ah, si Hai buttato i soldi Vabbè, costava 20 dollari Venti dollari Guarda che... Vola Ma mi state distruggendo la Dumbaggy? Eh? 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 Guarda... Ma siamo tutti con lo stesso clackson? No, io ho quello normale Ah, ok Perché non hai ancora fatto il tempo a mettere questo Oh, la mia Dumbaggy E vola come niente Beh? La mia Dumbaggy Ah ma sei qua. Ma quindi l'assalto allo yacht... No. Ma dai. L'assalto allo yacht posso farlo anche io. Puoi partecipare. Ah ok. E allora partecipo. Io vi seguo. Sgommiamo. su 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 signor frassica la mia dumb bug cosa sta succedendo inizia la magia il magic lag dove siete? qua davanti potrei leggere anche io che sono molto lontano dal modem però ora sembra stabile lo batti cioè giusto ti batte comunque io ho l'herber ma è fatto a fiato è l'herber alla collezione internet cosa sta succedendo? è sparito sono due aerei, due titan ok ma dove sei andato? ma dove sei? tu hai visto andare contro il muro a destra sparito adesso mi tamponi magari ah no sei fermo di solito quando sparisci poi mi tamponi perché torni indietro dobbiamo andare chi è che è in elicottero? ammirate la potenza dell'ind uiiiiiii scendiamo questo vomita i missili oh non mi distruggere la dumb buggy eh se vuoi ci penso io ma provaci provaci non so esattamente il copilota cos'è che può fare non mi ha messo con... qualcuno prova a salire come copilota eh arrivo per usare i missili? fare qualcosa? ah e perchè a me non ha preso il comando uffa ahahahah che armi puoi fare da copilota? nessuna tre mie? tre mie? ah si c'è il cannone eh? oooh no un lancio a missili cos'è? quante robe fa schifo allora perchè guarda quanto posso sparare veloce io con quello chiudi ah no anche tu devi sparare veloce che è bene provo a chiuderlo Chiuso Chiuso la telecamera No, no, adesso c'è un rato di fuoco Ok, andiamo... Questo è il tuo, no? Questo è il mio Ella, Peppa, quanti missili Quanta cattiveria con i telecopter Andiamo prima al tuo, visto che ci siamo A fare una missione Costa miglior anche del Valkyrie, questa Oh l'hai già fatta la missione? No, io l'ho fatta parecchie ore fa Quindi non possoまた Ok, andiamo al mio Che è dall'altra parte dell'aeroport Mhmm, vabbè, tanto con questo ci mettiamo niente LALALALA TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATCON Ст ссссd Il tuo era blu? No, no, il mio era blu. Eh, è questo. Si vede il segnalino? Sì, si vede. Non è questo. Eh sì, mi dice che è il tuo. Come mi dici? Eh sì, mi dice che è di Ninofrassica. A me non lo segna proprio, sulla mappa. Come? Non è il mio, secondo me. Non è il suo, questo è tedesco. Liot di Ninofrassica. Questo. No, è più avanti. Sì, quello che hai segnato sulla mappa. Eh, è quello che ho segnato prima. Ah no, pensavo questo qui sotto. No, 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 no. No, ho segnato quello. Cosa stai facendo, dammi? Cosa stai facendo? Ci avevo visto sott'acqua. Pensavi. Beh, si può pescare con le eliche. Triti un po' di pesci e poi li raccoglio. Mettiamo gli ami. Possiamo lanciare giù Ninofrassica e poi tirare su magari a bosca. Possiamo tagliarlo un po'. È così che più si pescano gli squali martello, eh. Voi non lo sapete. Tu butti Ninofrassica e si attacca alla gamma, no? Eh sì, ma in quei paesi lì dove li pescano, si chiamano tutti Ninofrassica per questo motivo. Eh, ovviamente. Quando nasce un bambino, a scuola, quando fanno l'appello, lo chiamano Ninofrassica. Ah, Ninofrassica. Mi dispiace Ninofrassica. Avrei una brutta vita. Così funziona. Storie tristissime. Infatti il nostro Ninofrassica è un rifugiato politico. Perché si buttano? Cosa succede? Perché si buttano tutti? Chi è che è caduto? Ok. Tu caduto due volte, quindi. La la la. La 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 la. Questa di sd-terraggia è più piccola di quella che ci sembra. Me ne vado, prima di venire distrutto dalle eliche. Ho paura. Va bene. Si. Più piú contento. No no no, devi attivare il sistema di difesa, se no non posso decollare. Ah giusto, scusami. e sto bonky si è attivato adesso aspetta non possiamo neanche usare le armi quando attivo aspetta si ma per gli amici no ok finito qua vabbè tanto si disattiva quando attivi con la missione se no gli altri non possono sparare e neanche te questo rattismo lolly però ahia scivolo scivolo sono caduto in mare il tuo microfuncionale è stato distrutto c'è uno stronzo con molto schifo c'è passato di fianco ah si? sperando che non mi investa no no non c'è passato di fianco ma dai ma era sopra ma come si è fatto danno? è caduto in acqua e si è fatto danno signor avviamo questa modalità dai allora salve come va? io devo attivare il scio prima lo so ormai sono un un esperto ti faccio la foto mentre sei lì in posa a meditare sei diventato sio di io porto lì allora cos'è se avvizi yacht no? no è missione shio ahia ah e vabbè non mi faccio l'illuminazione perfetto allora e' a sia se quer serve gestione no oh abilità missioni sio ah il piede non viene contato Sto facendo l'illuminazione Allora Ok ma dov'è che sono? In carichi d'un giornalieri? No Mi ricordo In carico del boss abilità Sio Assumi associati Cioè è gestione Basta Ma no Ma non ti ho fatto nulla E lui ti spara e picchi me E guarda dove sono adesso Quanto lontano Guarda dove sono Guarda dove mi hai mandato Come ci arrivo lì Non l'hai giuse Aiuto Dove mi hai mandato Dai venga a prendersi Mamma mia Sono lontanissimo Oh arrivo Dove sei? Sulla costa? No sono in mezzo al cantiere delle navi Qua al porto Eh vabbè venga Costa sulla costa Costa sulla costa Ma non è che ogni volta che ti buttai in acqua devi andare così a fondo Per forza E beh a meno che vuoi andare di pancia Ah vai tu con l'elicottero Vabbè Ti era agganciato il canone alla nave Ho l'ho visto brutta per un attimo Ah no gli esco a No 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 Sono in un posto sbagliato Ci ferma Elicottero ci fermi E' un po' cazzone da manovrare questo Un po' finisce male E' un po' molto cazzone da manovrare Ecco che salgo Salve Come va? Salve Ma dai Non sparami i missili a casa Mi accosta Mi accosta Non faccio Ah bombardo Lo yacht dall'altra parte Infatti attivo le difese? No 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 Ecco Sto sparando all'altro yacht Credo E quello lì è il mio No no Quello oltre Ah quello C'è un altro di là Ma vi farò vedere Il classico esempio di Atterraggio a farfalle Ui Come hai fatto Cosa stai facendo T'ho visto saltare Come hai fatto Lo rifaccio Aspetta che arrivi Aspetta che arrivi Finite qua Finite qua Lo rifaccio Aspetta che arrivi 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 Vabbè E va bene, allora come si attiva sto coso, vediamo Sio, missioni Sio Allora, Sio Secure Server Ma ti giuro non ho missioni Sio Ho divento Sio io, guarda Bene, voi organizzate il colpo Qualunque cosa stiate facendo Io mi riposo Allora, ma io sicuro, cioè In carico del boss Pirati d'industria, è l'ultimo Ma non c'è Ah, in carico del boss Eccolo dov'era Ma non me lo abilita L'ultimo Non può essere abilato perchè è già in corso un'attività Per tutta la sessione Ah, quindi ce ne giuro No, è perchè forse devi aspettare che finisca Ma dai, ma la smetta Sono morto Come? Come? Avevo il coso di fianco Non ancora qua Ma perchè è ancora qua Vediamo a prendersi Dai Vediamo a prendersi Prendiamo l'altro elicottero più vicino Ed è più immanaurabile No Salga Salga No Falle Ma dai Eh, se parti che ancora devo salire Dai dai Scusi Come cazzo fai? Dai vai Vai da solo Che è meglio Ecco, adesso si può fare Perchè c'era la missione Attiva Mi sa Ah, è vero Lascio il carrello con G, valla Ma chi è che mi spara? Lascio il carrello con G Sì E' inofrastica, sono qua Non so, ma perchè Non si ferma questo Sono quello col dito per aria La vedo, la vedo Eh Beh, quanto No, 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 no Qua Salga in fretta Andiamo via, subito Via, via Dove vai? Ah, ti ho visto scattare Io vedo scattare te Dai via, allentanati da lì giuse No? No? Eh, vabbè Puttati che mori un pizzo Ma... Puttami Putt... Con quale fisica Ma no, stavo andando su Ah, ah, ah No, ero quasi sulla nave Quasi, ma non era abbastanza Anche tu cerca di oltre sulla nave Anche tu cerca di gare sulla nave Anche tu c'è arrivato Ah no, ah no, io ci sono Non, lui ci è arrivato Come? Come cazzo ha fatto? L'ho visto schiantare sull'lato della nave io Ehhh Che sono schiantato e poi tipo metà del corpo è entrata davvero ecco qua, in carico del boss io sto nuotando con ancora lo zainetto del paracadute su volete volete entrare a far parte della della? prendi il mio minigun e come? no non me lo fa prendere dove cazzo sono spawnato porca troia però ho preso dei soldi 500 dollari chi è che lascia giù un mazzetto da 500? vai a prendere coso chi è coso? ah no se parti l'elicotteri adesso ah ok ah ok ah ah viate il colpo ah no 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 giusei non silenzio di comba adesso sono il centro Los Santos perché sono su una strada? dove cavolo sono? eh vabbè giusei guardate tutti i due sulla mappa dove mi ha spawnato stavolta eh anche io ero spawnato lì adesso eh ti posso prendere Damiano che arrivi nelle cose mi lancio giù con quinte? però no ma non è proprio il tanto non te che arrivi sulla nave e spawni direttamente la niente eh appunto strana buo magari giusei ha messo qualche impostazione diversa no ha messo poco amico no per me no ma è di questa missione proprio ecco gente ah ok basta No, ho che qua mi taglia via Tu menti Ah, eccoti lì Lo uso per individuarti Ah, io, sta arrivando uno in elicottero che non siete voi Come non siamo noi? Aspetta, dietro Vedo elicotteri a volare nella mappa da quella parte Quando? Dove? C'è un elicottero Credo che sia lontano, però Io non lo vedo Neanche io Neanche espandendo la mappa Io lo vedo Vabbè Ah, ce n'è uno verde, sì Eh, sì Quindi cos'è che... come funziona sta roba? Bisogna andare a offendere... Lì, nessun altro pila di entrare lì Si entra lì e... Cos'è? Si rimane lì e la fai perdere Ah, io devo andare quindi Lanciare azi... Lanciare azi... Lanciare azi... Sui lati Sui lati Non sul coso giallo Eh, ma... Mi è scomparso il mio di elicottero È appena... è appena scomparso Si, ho visto Prendete il lanciare azi e via Quale... è... ok Ho un colpo del lanciare azi Eh, vabbè Usa... usalo a vedere No, no, no Tu stai lontano con quel coltello Via Via Cerca di non ammazzarvi per sette minuti, va bene? Sette minuti, eh, non è tanto Ah, ma arrivano gli altri giocatori? Si Può arrivare chiunque Non lo sapevo Ma la smith... Ma no, ma dai Ma mi ha cancellato Ma che bastardo Guarda, ti ho fatto esponare Ah, ma aspettate Io non devo Io non devo difenderlo Io devo conquistare il ponte superiore Eh, ma tu stai firmo Perché noi lo difendiamo Ma scusa, non ti posso assumere come associato? Eh, sì Adesso no Dovevi farlo prima Dovevo far... Eh, ma non lo sapevo Cacchio E io cosa sto facendo? Io allora Io non devo difenderlo Noi che ho, sono... Io cosa devo fare? Sono un altro scendio di... Niente Ho guadagnato 165 dollari Poi con io, con le mie morti Ah, gabbiano! Gabbiano? I gabbiani sono gente pericolosa Non devi stare là Io? Io? Vabbè E il ma... Oh, buono Interrompi il radar Aia... Aia... Come? Quanto laghi poi E io sono di nuovo in strada Vai, prendi gli elicotteri Tanto sono spawnati E dove sono gli elicotteri? Sono sempre lì, nella... E il sciamato Dove? Sono tutti intorno allo yacht Dove beh... Come intorno allo yacht? Ma io non sono allo yacht Vabbè... Tu hai un shotato sparandoti nel piede? Bello Dov'è che sono gli elicotteri? Sono sulla costa, guarda Ah, sulla spiaggia? Sì Oh Una mano lava l'altra È alla mano Basta? Basta Basta? Non basta Chiedo che basse Ah, ok, sì, me ne segna uno Aia E... Il giocatore Sono morto A te... Ah, è tu Uno qua, a te Come hai te i morti? Caduto, sono caduto Ecco No, non spara tra il tero Ma la vuole smip, eh? Vieni se questo spara tra il tero Allora, l'elicottero che arriva adesso sono io, eh Mi raccomando Vuoi proprio che lo vai a uscidermi? Vuoi vedere se sparava attraverso il tero? No, non spara, hai già visto Ops A momenti ti arriva nel ginocchio quello Ok, va Mi accosta C'è Thunderbolt Thunderbolt Ho avuto la mia vendetta Fermate quell'eliche Ma no Cosa? Ah, è stato lui Per poco, signor Thunderbolt È stato lui, non c'entro niente Ma non c'è nessuno che invada il... No, non gliene frega niente a nessuno, mi sa Beh, ma che palle Eh, vabbè Non ti fai i soldi comunque Certo, vandalizza il tuo elicottero Non si permetta, sai Io come scendo di qua senza morire? Non si permetta Sono ancora vivo Eh, lancio una granata? È pieno di spiaggianti Lancio una granata? Eh? Signore, lancio... Vuole che lanci... Oh Uno schiaffone gli ha tirato Lui, questo mi sta riprendendo Via Questo pure Ho ammazzato Jackie Chan Sembrava Jackie Chan Eh, vabbè Eh sì Ma... Eh? Eh? Non c'ho vita io Adesso Eh, non vale La smetta La smetta di vandalizzare Oh, c'è un elicottero in mezzo Sono io, sono io Ah, ok Allora ELICOTTERO Allora, vabbè Vabbè La smetta Oh, no Vabbè La scena Ah, vabbè L'ho Ah, vabbè Ah, vabbè Ah, vabbè Ah, vabbè Ha, vabbè Ah, vabbè Adesso mi cade in testa Magari Ah, vabbè Ah, vabbè Finito lì Ok Chi è che te n'è andato? Boo Era all'elicottero? e non è oh ciao ciao vabbè vabbè non ci abbiamo pensato no perchè quest'anno è diviso non è finito com'amare gara ne abbiamo pensato vabbè 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 ma no aspetta, ben non mi sparo ma no dov'è damiano? ho sbagliato scusa ah voglio fare bio se ho tirato un pugno ok sei tante di esame di magnezzo me ne prendo balla balla ma non c'è più eh si deve stare disconnetti eh si chiedi altro non si capisce in cazzo di quello che vuole dire vuole fare oh va e Che succede? Ma nooo Sulsia che ha fatto venire un esercito Oh è quasi finito l'evento posso venire a prenderti, guarda che bello O prendi un elicottero adesso o mai più costa Tanto non arrivo lì in 15 secondi Hai 20 secondi? No no non ce la faccio Ah non è per arrivarci, devi prenderlo Poi rimane Ah eh no non ci arrivo Eh arrivo io, arrivo io Tanto qua non arriva nessuno in così poco tempo E sono già spariti Ma mi hanno detto la faccio? Eh tranquillo, tranquillo Ah no ce n'è ancora uno lì, lo vedo Sì ma io muoio che sei scendato da qua 30.000 dollari, arrivo arrivo, arrivo tranquillo Ma... vabbè Sta arrivando eh? Ok Ah allora ciao, potrei farlo con lui Ah mi ero messi No ma c'è ancora un elicottero qua Ah! E allora lo prendo E adesso sto andando No no aspetta vieni con me, vieni con me Ti faccio fare l'elicottero, vieni Ti faccio provare emozioni for Il lag Esatto Usare entro il tuo canale Ciao dami Ah Internet è andato, vieni Avete visto sul gruppo no 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 Hai scritto? Eh Sì Guarda eh, scotta Un attimo Che succede? Adesso Adesso Per poco lo scopriai Devo mettere la prima persona? Balla Metti la prima persona Ok Sto andando te che guidi Te che fai finte di guidare il motoscarp Oh Ok No Cos'è succede? Cos'è succede? Fail No, rifacciamo, rifacciamo Vai vai E se ti sparassi agli interni del motoscafo? Ok la teso è finito Paglio via te Paglio via te Chissà se posso spararti mentre stai guidando Porca Eva No, non posso Però io però posso sempre buttare una granata dentro il motoscafo Fai vai Io posso mangiare una cosa a gas Vai che ce la facciamo Ho sbagliato Cos'è successo? Perché mi ha tolto la prima persona? Sposta Ma dai Aspetta un attimo Che fai cazzo Cazzo Che fai cazzo Che fai cazzo Madonna che roba Allora 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 Ah aspetta Cos'è? Ma infatti è sparito anche il suo helicotter Hai visto da quando ti dice Adesso Saliamo su un altro yacht così Va bene Ah lì c'è un giocatore tra l'altro Proviamo Proviamo fregare l'helicotter Ah no ma sta nuotando Guardalo, guardalo Eh no ma non possiamo ucciderlo Eh no ma non possiamo ucciderlo No infatti Si Lasciami in pace Ma non so quanti è riuscito a darvi nella seconda Esattamente Perché mi sono alzato? Anche Magnezzo Fidati Anche Magnezzo Non si sedi più il personaggio Architettura Si sta muovendo da su Si sta muovendo da su Si sta muovendo da su Perché non Era un problema Ma invece Algebra E Magnezzo Anche se hai tempo Cioè C'è qualcuno che non va E' un po' perplesso Non mi siede Non si siede più il personaggio Eh vabbè Lascialo in piedi Si infatti Oh ancora meglio Guarda Vediamo come succede ora Riferimmi ai Imbici Cos'hai Imbici Imbici L'ho del sole Stai glitchando Eh sì Credo sia successo qualcosa Eh tranquillo Prendiamo cosa succede ora Ok io sono a bordo Prendo l'elicottero Perché non ce lo disabiliti Eh vediamo un po' che succede Andiamo verso il nostro Velocemente Te credo Eh non posso che prenderlo Allontanati allora Bene Bene E' venuto qualcuno ad attaccarmi per caso? No no Ho vinto tranquillamente 30.000 dollari Sì Stai con subito Ah ma sei S-auditore? Sei Sì Tranne quando devo saltarsi qua sopra Ecco Quindi l'unica è portare il motoscafe in acqua Se non lo riusciamo a uscire da qui Attenta Costa Granata No No ho spavuto il valchiria Ah vabbè Non c'è più il nostro motoscafe Ah no eccolo Arrivo Aia Aia Dobbiamo spingerlo Cosa? Che signor Costa Lo spinga Eh vabbè Ma che Que Vabbè ma giusto c'è un altro motoscafe Ah no però è suo Eh ma è ed è suo Eh ma Non credo fu Io non posso fare niente quindi Non so se possiamo s*****erlo in qualche modo Ah ci si può salire? Qua si si Ah ma vieni qua Bastardo Eh su un attimo Stavo provando a vedere se andava Dove sei? Arrivo Oh no 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 Cristних Eh Ecco sali sali Ehm M'hai investito Aspetta che gli lascio an ultimo ricordino Aspetta che Mi disincastro da qua Eccolo aspetta 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 as Uuuuuh, aia, 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 aia Oddio, oddio, ah è Damiano, è Damiano, ok, scappa, va, damiano, scappa Non posso usare le armi Te ne vada Te ne vada Mi stanno sparando la città Sì Sì Che stiamo facendo qui, esattamente? No Scappa Dove li hai tirati? E' qua sotto Venga, signore, damiano, venga Ma come sgum Non ha tre posti quel robot Fermo, fermo, fermo Ma se faccio così cosa succede? Franci Giusto, tu sei Io sono rimasto su No, e vabbè Si è lanciato giù No, 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 no Ma non va più Ma che... Come non va più? Non va più Non posso più salire Si è buggato il coso Vieni, ti faccio andare più in là Che poi diventa... Aia Ti faccio andare prima, no? Ma perché mi fa spawnare sempre qua in strada? No, tu mi fai compagnia Aia Cosa vuole questo? Assassino Assassino da vicino E' il compenso a 200€ Ma che bello Non mi hai anche mazzato, ok Vabbè Costa Costa Cugnialato alle spalle Dai, forza Tornate sulla terraferma Mi uccidi? Dammi, mi uccidi Fatemi esplodere Aspetta, aspetta, c'è un... Oh, ma che bello Mi ha percosso Mi ha percosso Mi ha percosso Dammi, Dammi mi ha percosso E vabbè, giusto E' a me che mi hai fatto nasce la terraferma Eheheheh Io, ci sono io, il tuo buon amico Arrivo con un carico di meteoriti Zaguar Ma nooo I miei meteoriti Oddio Eheheheh Ma tu non sai come Ho lanciato una granata E ho fatto la strada Proprio mentre hai passato tu Ah, ok, ottimo Dove sei passato tu? Ah, e quello è l'autista che scappa Oh, qua c'è una macchina Che sembra interessante What? Morta Ah no Salga, salga Puoi salire No, voglio farti prendere dalla polizia Ma io che ho fatto? Eh, e te l'ho detto io che potevi salire Eh, vabbè In tutto questo Damiano dove è finito? Ah, non lo so Aspetta, vai, ti veniamo a prendere Arrivo Ma perché mi hanno dato due stelle così a caso? Eh, mi stavi guardando la macchina Ho solo lanciato le granate Ho visto una macchina della polizia volare su un pormontorio Si, sta seguendo me Ho perso anche una portiera a quella macchina Al video Passaggio E' rubato il furgovino di scubidì Vai, ma guarda com'è trasferna quella macchina Perché ho due stelle? Rihihi Quanto va via storta questa macchina? Ma che continua a distruggermi il veicolo al heliport? Porca troia Ma non cazzo da fare proprio Ma tanto E' inguidabile sta macchina sull'herba Perché questa si Questa proprio non va Vai ma te la rendo ancora più guidabile No, grazie Alle gomme, alle gomme Non posso neanche tornare indietro da voi Guarda, non va dritta Va solo in giù Quindi finisco in spiaggia tra poco Dove fai? Dov'è? E vabbè E come fa morto? Come? Ah, le spavano qui proprio sulle rocce Che bello Ah, che bello proprio Cosa sta facendo la macchina? Voi non sa cosa Ti salvo io Grazie Mi hai ammaccato la macchina Oh, un po' di luce Si è spento Oh, no Si è spento Ma se io lanciassi questo Ciao C'è la macchina che balla Ah Guarda Guarda E vabbè Grazie Ma no, ma quello gas Che è sparito Oltretutto Ma io muoio Dovremmo arrivare con gas Forse No, dentro la macchina non ti fa danno anche se non hai un finestrino Qualcos'altro mi fa danno Quindi Io sei su di questo risalito Ma c'è un polizio No, sto cadendo Poliziotto Sto scivolando il poliziotto Si sta allontanando Con un nonchalance Nel mezzo del nulla Ah, ecco dove eravate C'è una macchina distrutta Ah, e qua c'è Ci sono i soldi di qualcuno che è morto Probabilmente io Dove sei? Siete, anzi Ah, da me lo è io Oh, no Mi stavi giambiando No, no, t'ho mirato proprio in quel momento Hai peggio Con quale fisica sono scivolato in acqua Adesso mi uccide la polizia E rotula Come cazzo sta camminando sta polizia E se la spingo giù di sotto Si è schiantata contro un albero No, no, li voglio vedere anch'io No, si è alzato e ha fucilato No E vabbè Se la facevo io Un accuduto del genere Morivo di brutto Una polizia di super sonno Ah, ecco ho visto il cadavere del poliziotto No, non è morto Ma c'è un cadavere Eh, sarà il suo Di Damiano O di un poliziotto che ho ucciso io prima Sai, è un poliziotto che ho ucciso prima Qual è il mio cadavere, infatti Ah no Come facci la sciapire cosa stava per coltellare? Oh, calma Non fare il giant crap della situazione Eh, non ci fai, è un coltello E io no Dunque Giuse, si guida meglio il tuo furgone rispetto alla macchina che avevo io prima Vero? Si No, non diceva te Aia Aia Ma dove, ma dove mi ha sponato? Ma dove mi ha sponato? Adesso c'ha le meglio Dai, ultima morte e poi vado Sono già le 11 Sono rimasti mezz'ora Siamo rimasti mezz'ora ad ammazzarci qui Dove siete? Alla Ancora siete caduti? Alla prima quando ti metti la Eh, pensate poi se tu invece la lavare fermi, spanno a sostegno Ok Si, abri, vi, vi, vi Io sono ancora vivo Sono ancora vivo Ma non mi è, eh Trovo quello in più, però Qualunque non ancora funziona No Peccato Però posso prendere fuoco io puoi prendere fuori si no non posso prendere scherzavo bel mio taxi oh finalmente che più peso no hai chiamato un taxi hai chiamato un taxi qui ma no ma mi ha fatto respawnare qui qua sotto in acqua ahahahahah proviamo a provo ad ucciderti di nuovo vediamo i telefoni qui aspetta sono sott'acqua ecco dove? cosa? ma dove siete? io ho provato sott'acqua a morire affogato oh sono in strada io ho chiamato un passaggio in barca ha detto ah certamente verremo a prenderla si oh qualcuno aumenta le skills oh qua c'è la polizia che ehm sono sott'acqua davanti alla polizia io infatti io ero cotto visto comparso qua davanti dove corri? oddio la polizia adesso si uccide cercandomi qua no mi ha perso di vista quanto americana sta scena mi ha perso di vista mi ha perso di vista proprio mi ha perso di vista salve dove va? damn guarda qua c'è un poliziotto là c'è Damiano che corre e qua c'è un poliziotto salve maia cosa fai? c'è una macchina della polizia ribaltata sono morto non so perchè eccolo la porca ma porca eva lo sapevo io quando sto zitto perchè sta combinando qualcosa ma dove mi hai spawnato? ma dai aia cosa? boh no non ce la va per cazzarillo attacco la macchina della polizia aia boh boh dico lei aaaah aaaah quanto è imprecisa sta pistola eeeh 3 stelle per aver dai no si fermi via ora tra la pistola che è imprecisa come lo schifo e te che fai tp avanti e indietro ah ah ma basta dai vi vengo a recuperare salite qua nooo perchè vieni qua guarda guarda dove mi ha spawnato guarda perchè non si è buggata sono in prima persona vedo che mi stai sparando giuse vieni qua va e non posso mi ha spawnato su una discesa sperando a caso al secondo colpo ho colpito in testa il pilota ahahah e vabbè ho visto che è venuta fuori la x sul birino e pensavo di aver ammazzato il mitragliere poi vedo che casca ma non posso non posso salire da qua oh sei in testa con 24 km orari oh vieni qua vieni qua oh che bello sali però eh beh giuse arrivo con una macchina della polizia eh eh già no non era di qua dovevo andare ok usciamo più da qua non usciamo più da qua ah ma c'è lì la strada oh allora posso avere sbagliato invece no sei andato da te contro il tuo cofano ah ah là c'è la strada si si è andato e il fatto è che non va dritta e mi sta che abbiamo un problema è incastrata non va né a destra né a sinistra né indietro né avanti e siamo morti usa la forza io sono morto e il jt mi ha sparato mi ha chiamato mentre stavo sparando perfetto e grazie mi sono morto ahahahahah ma non qua perchè sono rispaunato qua ancora? chi è che si salva? ah no cosa sta succedendo? vedo un poliziotto che ziggi zaga andando al bosco poliziotto è beggio, è un po' troppo ne avevamo tirati prima no, 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 via so chi è stato non succede niente mi nascondo dietro quest'albero di carta peste quanta polizia qua, dove vanno in gita? vabbè, aspetta, devo farla sta volta c'è, non ho bombardato, non mi hanno rifornito i soldi e non mi hanno rifornito neanche un altro un altro flayer che stronze oh, facciamo una foto ai militari che vanno in gita eh, l'ho fatto aspetta, no, stai lì, stai lì, stai lì, stai fermo quando, ecco mi ritai che vanno in gita girati un pelo più a sinistra ma proprio di poco aspetta, girarmi a scelista? sì, un pelino posso starmi o girarmi qua? no, proprio girarti ma come cazzo faccio? guardati qua, guarda verso di me perché mi stai dando le spalle, così le spalle che c'è? ok, così, così no ok, fermo ti fermo? non ho fatto il tempo a saltare la foto Giuse hai rovinato la foto stavo facendo la foto e non sono riuscito a salvarla mi è arrivato un meteorite in fudge no, non l'ho salvata la foto dei coci che vanno in gita eh, neanch'io perché ce l'hai vestito adesso li rivedrete eh no, non ci son più come no, guarda adesso ritornano per me eh, ma erano in quattro che stavano salendo su cosa sta facendo questo? scusi scumbag! scumbag! cosa vuole? sparti in gola gli ho sparato in gola malamente pover' uomo che succede? beh boh ho visto qualcosa? dove è la bomba? quale bomba? aveva agganciato una bomba sulla macchina avvivo avvivo oh, scusa devo superare il coso di velocità non peraltro dopo torno dove cazzo l'avevi agganciata? a una macchina della polizia guarda che cazzo era quella che avevo preso io l'avevi agganciato al furgone stavo andando ed esplodo a cazzo what the fuck ho schiacciato il tasto e basta e si esplose anche te però no, no, i a me hanno uscisi perciò oddio, ecco, ecco i militari fazziscono quelli che cavolo fai? aspetta aspetta no, continua a saltarle ma non li vabbè vuole attaccarla alla macchina ma ho sbagliato perché ho attaccato il pavimento sotto i miei sedi che bello no capito capito che gli ho lanciato una granata qua e ci è esplosio in faccia ma è morta cosa sta succedendoli? no no, c'è cosa è andata a tutti com'è che tu hai ucciso, Giuseppe? Damiano ha lanciato la granata e sei esploso con la macchina e... no, no, io l'ho fa... io sono... io ti ho ucciso non lo so come perché hai esplosato... chi stava guidando la macchina? io ah, è proprio... e chi ha lanciato la granata? io io ho messo una bomba adesiva però ah, forse... forse tu mi ucci... per quello... io ho ucciso te ma io sono morto per causa sua una statua del genere è un incrocio di morti... di cause cosa è successo? ahia! ma hanno sparato... oltretutto si son girati per sparare a te ma hanno sparato a me mi dovevano salvare, no? ma tu non hai visto quello che è successo perché hai di spalle E in prima persona oltretutto non l'ho visto Praticamente io ho fatto per tirarti il colpo alla nuca, no? E' passata una macchina che mi ha investito E mentre facevo una capella alla terra è partito il colpo Scusi, signor poliziotto Non sono stato io No, non ti vedo Ma no... E io in prima persona non riesco a prenderti E' difficilissimo il corpo a corpo in prima persona Cioè, a parte di quello fa sempre storto, non prende mai nessuno Però in prima persona ti direi tempo Sì, e beh vedi meglio quello che c'è intorno Cioè, oddio, quello che è davanti e non intorno Aia Io dal sacchetto vedo con i buchi, vedo con i buchi Se ne vedi in prima persona Appena testata L'elicottero? No, 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 no No, no, no. Che sai dove spawni, no? Se succede. No, non lo fai. Non lo fai. Non lo faccio. Fai. È una siaccolata. No. Vi ho ucciso tutti e due. E l'hai pure lanciato il coso. Ok, devo lanciarlo prima di 200 metri, se no non bombarda. Non c'è il coso. È un colore di fuoco qua. Sono praticamente morto. Non ho vita. Ecco. Mi ha ucciso la polizia. Già l'ho visto. Mi ha ucciso la polizia. È più bello in prima persona comunque, direttamente. Eri circondato da poliziotti. Mi hai fatto nullare il partaggio dell'elicottero. Dove è finito? È sparito. Anche tu sei in prima persona. Ti ho mai dato il culo mentre cadessi. Sono qua, passo di l'elicottero. No, no. Non vada via. Maledetto. Stava spettando il mio passaggio di l'elicottero. Non vada via. Aio. Aio. Se ne va? Che cosa? Che cosa? Cosa succede? Salga. Salgo dietro, vai. Vida questo delirio. Senza bombe, grazie. Asciuta. Il mio personaggio è sputato del sangue, però. Ma che bello è guidare. In prima persona da dietro è stupendo. Sì, è vero. Ops. Siamo di non morire, però. Ho finito quasi tutte le munizioni. Sì, mi dà molto meno lag da questa cosa. Ma anche brutte persone che non si spostano. Questa è un'emergenza. È un'emergenza. Non tanto di lag. Cosa fa? Cosa fende? Dove? Ma dove cazzo mi ha spawnato l'elicottero? Oh ma porca troia. Via positiva numero uno. Oddio. Dove cazzo scendo? Dove cazzo scendo qua? Dai non devo andare qua. Ho visto un poliziotto schiantarsi. Devo andare dall'altra parte. Come cazzo ci arriva? Dove cazzo scendo qua. Si è spaccato un vetro in faccia. Ah vabbè. E tanto è il sarpetto, si è gofferto. Oddio. Ma cosa è successo? No. Eri seduto con l'acqua che usciva da me. E vabbè. L'acqua. Ma come si è folla e fallita, sì? Non ci provi che io ho il coltello. Non puoi usarlo sott'acqua? Sì che posso. Ah sì? Sì che può. Adesso. Hai visto? Non potevo. Non potevo. No ma dove sono io? Quanto è montagna? Ma io comunque tra poco devo chiudere. Sì sì no ma anch'io io chiudo avesse. E' troppo lontana da una strada latta. E' troppo lontana. Sento cose che esplodono. No ho spawnato in un veicolo a due posti. Che palle. E vabbè. Nino Frastica ci segue a piedi. Lo leghiamo alle ruote. Ma come? Al paraurti lo leghiamo. Ho un giocatore dietro le chiappe. Ed è buono. Eccolo là. Mi ho ucciso. E vedi non c'era bisogno di un passato in più. Ma risponento di fianco a voi. Salve mercenari. Riveniamo in pace. Ma mi lagga. Veniamo in pace. No oddio. Pace non molta. Eh loro però non ricambiano. Eh io li sto salutando. Ma si stanno ammazzando tra di loro. Non so se hai visto. Uno gli ha sparato sui piedi. Allora l'altro mercenario si è girato e gli ha sparato addosso. Porca. Ma infatti mi lagga quando. Quando c'è gente. Sono finito bene le loro sofferenze. Ma sono morto. Come? Eh avevo poca vita. Mi lagga. Appena arriva gente mi lagga. Mi sono respawnato qua. Eccomi. Aspetta aspetta. Ti giro mi fa fare. Avrò mercenari. Vedo qualcosa da dire. Eh. Eh. Non ho fatto un po' di nemici conto. Ma. Sto sparando o no? Non vi dicono. C'è qualcosa che ci spara di brutto. Sì è quello verde. L'ho ucciso io. Bombarda bombarda. Ah ma c'è un veicolo loro proprio. Vabbè il giocatore l'ho ucciso io. Aia. Sto buonissimo a terra in acqua che sta per esplodere. Aia. Aia. Ah lì ci sono le scale. Eh ce l'hai di fianco. Eh davanti. Eccolo. Eh dobbiamo salire anche le scale noi adesso. Io sto laggando. Che novità? Diapositiva numero due. Eh ma no. È l'amico. Eh vabbè. Da dove? È lui. In verde. No è quello rosso che mi ha ucciso. Ah pure. Eh non so da dove. Ma perché mi lagga? Non riesco a girarmi. C'ho le diapositive. Appena arriva gente. Sì. Uh ho vittato un proiettile in maniera assurda. Eh vabbè. Non l'ho neanche ucciso in maniera. Che ha ucciso? Sì mi ha ucciso ma non l'ho ucciso. No. E perché mi lagga quando... E che cacchi. Diritto in testa. Se ne arriva qualcuno vicino mi lagga. Eh vabbè. Ma che cazzo ha fatto quello? No. Non esplodevano più così. Non esplodevano più così. E vabbè. Quanto male ho sparato. Vabbè. Io comunque adesso devo chiudere. Sì anche io. Aspetta che saluto. Ah. Aspetta. Ma quello sta camperando di brutto? Sì. Sì sta camperando da matti. Ehm da. Chiudot. Chiudot. Grazie.